Si è parlato del decreto cosiddetto del fare al Tribunale di Caltanissetta. La delibera, che contiene disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, incide nel processo civile nella disciplina dell'ordinamento giudiziario. Punto rilevante è la reintroduzione della mediazione obbligatoria prima del processo, ma vengono previsti anche diversi microinterventi, destinati comunque ad incidere sulla quotidiana attività degli operatori di giustizia. Questo è il motivo dell'incontro sul tema appunto cosa cambia nel processo civile dopo il decreto legge del fare, coordinato da Giovanni Battista Tona, magistrato incaricato per gli incontri di studio nel settore civile. I principali cambiamenti attengono alla mediazione. Il giudice adesso ha il dovere, in un certo momento della causa, anche ad istruttori avviata, di verificare se è possibile proporre una soluzione conciliativa tra le parti e di invitare le parti a valutare, anziché di proseguire la causa, se transiggere il loro contenzioso attraverso una composizione dei loro interessi. E' un modo non solo per favorire la deflazione dei procedimenti civili, che sono sempre in costante aumento, nonostante tutto, nonostante si dica che la giustizia civile non funziona, nonostante si dica che l'allungaggine del processo scoraggia gli utenti a fare cause, le cause invece sono sempre in aumento. Allora ci sarà un problema, e il problema è che evidentemente non siamo capaci come cittadini di riuscire a vivere serenamente i rapporti fra di noi. E allora la cultura della mediazione potrebbe servire anche a questo, imparare a metterci d'accordo, visto che il ricorso al giudice, per quanto scoraggiato, è una cosa che viene fatta costantemente, probabilmente non siamo capaci di metterci d'accordo, si deve partire da lì. Presenti tra gli altri l'avvocato Emanuele Limuti, presidente Fondazione Scuola Forenze Nistena Alessi, e Gabriella Tomai, magistrato componente della Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria. È un tentativo intanto di organizzare, di dare delle risposte, o comunque di superare dei problemi che possono sicuramente minare l'efficienza e l'efficacia anche della giurisdizione. Poi è chiaro, in questo come in altre cose, è comunque il contributo anche di tutte le componenti istituzionali che contribuisce a creare anche un sistema Italia che possa funzionare meglio. L'incontro è stato dedicato ad Antonino Saetta, che fu tra l'altro presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, nel giorno in cui ricorre il 25esimo anniversario dall'assassinio. Così lo ha ricordato il presidente della Corte d'Appello, Salvatore Cardinale. A Canegatti oggi ci sono state delle manifestazioni, questa è una continuazione ideale di queste cosiddette manifestazioni, proprio per tramandare ai posteri il ricordo di questo magistrato indegernimo, capace, professionale, che è un vero vando per la magistratura.